Vai, ci dà. Inaugurata la nuova sede della Biblioteca Comunale di Bucine, un locale completamente nuovo e uno spazio rinnovato di 300 metri quadrati. Esprimo la mia soddisfazione per essere arrivati finalmente a inaugurare questa nuova biblioteca che potrà essere per tutta la comunità un'occasione di conoscenza e di confronto. Oltre alla biblioteca vera e propria, la nuova sede ha predisposto spazi appositi per raccogliere la documentazione degli archivi preunitario e postunitario del comune. Ha a disposizione anche una sala polivalente, fruibile dalle associazioni del territorio per attività ed eventi. Qui ci si può incontrare leggendo un libro, facendo un incontro anche con persone che esprimono le loro impressioni. Per esempio, so che in questo comune mi hanno portato delle raccolte di poesie o di sonetti. Ho scoperto che questa comunità è ricca di sapienza antica, è ricca di storie, è ricca di voglia, di voglia di persone che vogliono comunicare. Cioè questa è la cosa più bella, comunicare con gli altri, vuol dire stare insieme. La nuova biblioteca raccoglie oltre 10.000 volumi dedicati a tutte le fasce d'età ed è inserita nella rete documentaria retina insieme alle altre biblioteche della provincia. Abbiamo già in programma una serie di presentazioni di libri a partire da sabato 17 novembre, un calendario di quattro incontri con autori del territorio che presenteranno libri usciti di recente.